salve a tutti ragazzi bentonato benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura ci troviamo nella città vecchia dopo aver passato grandi pericoli nel sottosuolo diciamo topi che sono arrivati anche qui quindi si sta diciamo riproponendo quanto avevano già passato nei precedenti episodio sappiamo quindi l'arrivo dei topi soprattutto con il calare della sera avranno via libera per gironzolare anche nel nel paese che c'è adiacente alla all'arena il nostro obiettivo è quello di arrivare alla torre che è lì in fondo dove c'è il il simbolo dove deve esserci questo alchimista dobbiamo portarlo da uco in quanto sta sta male la malattia ha ripreso il sopravvento quindi dobbiamo cercare appunto di portare questo alchimista che a quanto pare stavano studiando da tanto tempo questa questa forma di malattia e portarlo appunto da uco per cercare di aiutarlo sono con il nostro amico lucas quindi dobbiamo cercare di di sopravvivere insomma qui la situazione era abbastanza complicata questo non deve essere stato prima del morso sì allora qua si passa in mezzo aspettate un attimo cos'è è un orto quindi sicuramente c'è qualcuno che le le sta curando è un orto quindi sicuramente c'è qualcuno ok ho giunto la collezione di uco sagittaria allora aspetta un attimo lì come ci vado passando da qua sopra passando dalla casa c'è una cassa che sbilucceca quindi sicuramente potremmo raggiungerla qua non penso che sia aperto infatti no e qui non mi è sembrato potessi far qualcosa qua mica mi possa rampica qua è chiuso passando un attimo qua si vede che più che andare diciamo da sinistra verso destra sarà al contrario perché non mi pare di vedere punti di salita ah qua aspettate ci sono le scale ok ok quasi quasi vai qua forse ci trovo zulfo alcol eccetera ormai possiamo fare queste queste pozze diciamo anche il cortello buono dico queste specie di molotov per difenderci appunto dai topi che non sono assolutamente male come come arma in più il cortello ci serve eventualmente per contraattaccare i mercenari quelli che hanno la l'armatura l'ilmo eccetera che non possiamo stendere con la fionda altra cosa qui che abbiamo trovato zulfo ottimo ora intanto fatemeli creare tanto inutili che ce li ho qui ok in discorta diciamo allora penso che si passi qua questa si sposterà dai 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 lucas dammi una mano ecchio ce la fa lucas alla sola si passato? si ottimo che noi se fanno aiutare però poi passiamo e lucas parello è in balia della situazione occhio qua ah pensavo salisse sopra no che passasse sotto eh lucas mi esegue pure no volevo arrampicarmi ma in quanto pare non si può niente dobbiamo scendere allora c'è dell'elba alta quindi stiamo un attimo in campana siamo comunque in campana perché c'era eccolo infatti eccole qua che arrivano però che c'è le scatole o c'è qualcosa che sbilluccica che può tornarci comodo penso siamo prossimi però alla torre c'è un vaso ok allora vediamo un attimo com'è la situazione quello senza l'elmo volendo potremmo atterrarlo quell'altro invece è un po' più complicato cerchiamo di passare magari dove c'è l'erba alta dai 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 prima che ci vede mamma mia proprio filo proprio a filo a filo quell'altro ma dove è andato non vorrei che ci faccia il giro se quello ci fa il giro ci fotte e allora intanto mettiamo la pietra i normali preso ok ottimo però non mi sembra eh sì 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 se sei accorto ora vedrà chi eh il problema è questo ora aspetta un attimo proviamo un attimo così niente se ne è fregato altamente non c'è qualcosa che sbilluccica non ho capito se ecco ci ha visto cazzo cioè visto no però penso che sia in ricerca sono gli stecchetti di legno quelli mi parano quelli per essere accesi però perché occhio qua non posso fare assolutamente niente solo col cortolo eventualmente dovesse attaccarci via 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 cazzo c'ha visto chi cavolo mi ha visto oddio quanti siete qua scusa ma dove sono bugati questi che prima non c'erano via 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 scappa Lucas corri oddio quanti ne sono no 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 uh che cazzo i dobi i dobi i dobi stiamo qui stiamo qui stiamo qui via via no cazzo aspetta non possiamo fronteggiare l'uno all'altro quindi dobbiamo cercare di passare ma stare attenti allora eccolo cazzo proprio qua sta un'altra attacca anzi no pugnalo di via così ok ma non posso riprendere il pugnale no no quanto pare no dove sono gli altri uno sta laggiù quello però posso farlo fuori con la fionda ok prima che sia lui a prendere noi ora andiamo di corsa qui perché ho visto che c'è ci sono i legnetti ok quindi questi ci potrebbero tornare i comodi però li devo bruciacchiare in qualche modo qua 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 ok certo però così sono bello visibile però troverò chi ti ha ucciso macchia 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 tra la veglia ok dove sono dov'è dov'è l'altro lassù grandissimo fortuna ci prendiamo fortuna ci prendiamo allora aspetta aspetta usiamo quello là con l'elmo però porcavolo che lo riusciamo a prendere dobbiamo cercare di portarlo avanti qui e io spero che lucas mi stia seguendo paghiamo se un po' le porte ah no questa oh cazzo era la shot cut di prima che era chiusa dannazione contraattacca ma che cazzo via 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 il problema è mi servono i legnetti mi servono i legnetti ma più cazzo devo cercare che cazzo è che spara preso forse devo andare a ricoprire i legnetti qua mi servono altrimenti non posso proseguire oltre vabbè al tizio che sta cercando di ucciderci ovviamente che cazzo che cazzo ho lanciato il cosietto non posso niente posso contraattaccare non posso fare niente giustamente posso solo far pesta ma lui non è che che muore o altro quindi niente devo aspettare ma ancora dietro posso fare niente senza i cortelli non posso veramente attaccarlo quindi devo semplicemente dai che mi serviva il legno qui e niente andiamo nel piano altro stavolta posso passare qua però eh dai feroci dai lucas andiamo dobbiamo toglierci da qui dai a cazzo questo ci ammazza facile guardalo come cazzo la posso giustirlo questo perché mi fa cadere ovviamente il il bastone poi vabbè niente moriamo dai dobbiamo ricominciare un attimo il punto mi fa cadere il bastone quindi poi va a spegnersi il fuoco e quant'altro allora l'approccio così spavaldo non non paga ok ok forse dovevo semplicemente un po' famiglia affari miei aspettare che i ratti facessero il resto quello intanto l'hanno piato è che rimane quello con la torch quella è la cosa brutta rimane il tizio con la torch a parte mi sa che ce n'è sta un altro che sbucava d'acqua dietro no l'abbiamo già ammazzato quindi prendiamoci questo no vedi che c'è stava uno aspetta no molla un attimo molla questo e niente perché non lo oh che cazzo e niente ok mori là niente lo lasciava poi riprendevo il tasto per la per la per la fionda ma lo riprendeva vabbè allora devo vedere se riesco magari a lanciare questo stecchettino da qualche parte a meno che quello sta non ho capito se è tipo mezzo buggato o altro lì vicino alla cassa quindi famosa affari nostri per il momento continuiamo a cercarlo cerchiamo la nostra strada per far quello che gli pare dai dai è giusto per per non andare a complicare ancora di più le questioni oh che mi sono baggato in mezzo lo scalino oh oddio ma ma che cazzo ma dai mi sono baggato in mezzo lo scalino perché i bug quelli belli proprio a noi ma dai non posso fare guardate che cazzo sta succedendo aspetta ho pure sbagliato niente non posso muorre mannaggia la miseria una volta che ero riuscito a proseguire magari a baggare con l'altro mi sono baggato pure io ah ok per fare morcazzo mi metto vicino lì fortuna mi fa proseguire qua e non da capo allora vai un attimo aspetta un po' questi cacchio uh aspetta cosa vi va questo ok ok allora eeeh oh parcatore ci sta ancora altri 10 cazzo pensavo fossero finiti dannazione invece no c'è ancora uno è un arciore vabbè questo possiamo fare facile ok posto allora rioccupiamoci dei allora qua intanto possiamo accenderla così è già una cosa buona ok il vero problema è che non c'è un pezzetto di legna per farmi la la piaccola eh quelli si accendono eh però sono arrivata alla porta praticamente eh vabbè abbiamo fatto un giro un po' più più corto sicuramente mi sono perso qualcosa però va bene pure così dai no non c'ho più vasi e ma che cazzo gli ha non c'ho più qua dai porca troia dannazzi ah c'è sto bracere qua fancucco ok far po' di cose ah accendi qua perfetto scendi là no là ok mi servirebbe speriamo che non c'è un'altra entrata aspetta un po' cerchiamo di eccoli ottimo servirebbe proprio questi non è che c'è magari una ecco anche questa mi serve perché a furia di falle queste cose sto a finire un po' tutti gli ingredienti allora ritorniamo lì e ci serve questo dai dai ormai siamo arrivati via via se io devi dare schiatole topi di cavolo lascia tutto e via dimmi che è aperto ok meno male chiudi 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 e blocca tutto lasciamoci tutte le spalle dannazione mamma mia che fatica per arrivare qua insomma dovremmo tornare indietro alla fine è quello il problema non so se è chiaro noi dovremmo cercare di tornare indietro non so se è dopo tutto ciò che succede si effettivamente manco siamo arrivati speriamo basti ora guarda un vero ordine andiamo a capire la torre ho visto la torre non vedo forte ma questa specie di campane di ferro guarda regolano i simboli dei pianeti più al 100 si trova il sole l'ordine dei pianeti non è corretto come funziona sta questo affare c'è una seratura sotto ciascuna campana è un unico grande meccanismo ma non abbiamo le chiavi perciò penso che le chiavi facciano ruotare ciascuna campana ma la tua fionda dovrebbe bastare iniziamo alla sinistra l'ordine è corretta la sinistra a destra è Giove Marte il sole venere e mercurio non lo ricorderò mai ma sono tutti i pianeti dove cazzo stanno dove le vede le campane questo dovrebbe essere queste cioè queste per loro le campane ma sfugge qualcosa lui sta parlando di campane guardando qua e va bene ma te dove cioè che campane sta ma mi sfugge cosa devo 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 mirare più che altro scusa il sole è al centro va bene io poi non vedo altro ah queste campane allora il sole che è quello là mi ripeti un attimo com'era l'ordine mi ricordo questo che sarebbe scusa eh ma mi faccio sapere che cosa mi rappresenta questo scusi eh adesso di Giove c'è Marte il dio della guerra è uno scuro attraversato da una lancia non è questo eccolo quindi qua sarà Giove se quello è Marte Giove quale sarà questo e non riesco a capire non mi dà feedback questo è Giove ok venere prima alla destra del sole questo qua quindi è o questo sarà venere il dio del commercio il dio del commercio due serpenti incrociati no e allora aspetta ma venere è quest'altro sta qua e mercurio è quell'altro con gli serpenti incrociati ok questo sta apri anche a posto non vedevo le campane lui guardava dritto questi laterali di caspita l'aveva visto perfetto occhio qua immagini se fanno tutti questi enigmi arriviamo in cima e non ci sta il cartello torno subito oh c'è questo ignare di tutto quello che sta succedendo lì sotto scusi signore per lo meno qualcuno c'è ecco ecco bene ecco 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 E' già lì! Controli il tuo protettore di flamme. L'altro si è freddo dentro. Prendi la mia baglia. Andiamo a vedere quella caratteristica. Guarda, dove è? Andiamo a vedere, dove è? Andiamo a vedere. Come ti fai? Sono freddo. Hugo? Questo è il Magister Vaudin. Ciao! Dobbiamo iniziare immediatamente. Ho bisogno di silenzio. Mamma mia! Lo farò. Che bene, non c'è alternativa. Non so cosa gli faccia, però... Ok, un fardello di sangue. Luca? Veni, ora. Veni. Ho sentito a te chiedere. Che cosa succede? Non si è bene. Ha avuto una scuola. Che? Luca! Tu devi arrangare questo! Non lo sappiamo a questo. Amicia? Amicia, questo tipo di cosa era sempre sicuro. E questo padre è un membro exaltato dell'alchemista più antico che esiste. L'ordine conosce la macula. Hugo non è solo. Sono qui. Abbiamo da fare la spesa, ovviamente. Eh, vabbè. Occhio, che sta pure a piove, giusto che non rende le cose troppo semplici. Va bene. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche... che salutare qui, visto che, insomma, siamo in procinto dell'inizio del terzo capitolo. Così ci dedichiamo in un video appositamente per lui. Io, come sempre, vi ringrazio che siete arrivati fino in fondo. Vi invito, se vi farà piacere, a lasciarvi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate link a tutti i social network, al server Discord e alla mia attrezzatura. E in alto a destra la link che vi riporta alla lista del titolo se avete saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao!